Dunque il significato di questa giornata per la regione e per l'Italia, visto quel che sta accadendo? Orgoglio e speranza, orgoglio per la scienza italiana a partire dallo Spallanzani, speranza per un vaccino che possa finalmente farci uscire dall'incubo che stiamo vivendo dal 29 gennaio, per cui c'è una grande attenzione e anche un grande ottimismo. Che tempi ci sono? I tempi tecnici, i tempi che ci dice la scienza e anche la verifica dell'andamento clinico di coloro che sono sottoposti al vaccino. I primi risultati, quando li aspettate? Noi pensiamo tra qualche mese.